Strade, simenterrati allagati, un callo di pressione dell'acqua in diverse zone della città e asfalto sollevato. La rottura di una grossa tubatura della rete idrica avvenuta in via De Roberto a Flaminio di Fano aveva provocato danni, disagi e preoccupazione. Sabato sera, durante la nostra diretta sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia, vi avevamo mostrato quanto accaduto. residenti in strada, tombini aperti, diverse vie chiusa al traffico dai vigili urbani e tecnici di Aseta al lavoro per ore insieme ai pompieri. L'intervento, durato circa sei ore, si è concluso all'1.30 di notte, quando il guasto è stato ripristinato e la situazione è tornata alla normalità. Rimane chiuso ancora oggi un tratto di via De Roberto, la strada che costeggia il Conad a Flaminio. Una grossa radice ha cominciato a fare pressione sul tubo fino ad arrivare a determinare una rottura importante, una spaccatura sul tubo. È una cosa abbastanza rara, però insomma abbiamo tirato fuori una radice importante, tutta una serie di radici che ci circondavano il tubo e una parte in particolare, non so bene per quale motivo ha cominciato a fare pressione, ha determinato la rottura. Il tubo, ci spiega Romei, aveva un diametro di 25 centimetri, una delle adduzioni più importanti della zona che porta l'acqua del serbatoio di Centinarola alla città. In questo momento stiamo pulendo tutte le caditoie qui che sono state interessate dall'allagamento conseguente alla rottura. Chiaramente insieme all'acqua è entrato nel sistema di raccolta dell'acqua meteorica anche un po' di materiale di scavo e pertanto abbiamo ritenuto necessario provvedere con celerità anche alla pulizia delle caditoie. Terminata la pulizia si procederà ai lavori di asfaltatura per ripristinare il manto stradale e di conseguenza la viabilità. È stato un intervento tempestivo anche perché l'importanza della condotta era veramente notevole per quanto riguarda la fornitura di acqua a tutta la città quindi giustamente è stato fatto nel minor tempo possibile. Dobbiamo ringraziare per questo i Vigili del Fuoco che sono stati veramente preziosi per noi. I Vigili Urbani lo stesso anche loro hanno portato avanti in maniera esemplare la collaborazione in questi casi. Ci scusiamo con i residenti per i disagi che avevamo portato per questo tempo seppur limitato. Questa tipologia di rottura è una tipologia che capita poche volte però questo non vuol dire che non capitano. L'importante è essere pronti e cercare di gestire al migliore dei modi e senza disagi per i cittadini e penso che in questo caso ci siamo riusciti. Riuscite!